Paola Egonu, vittoria 3-0 dell'Italia contro l'Austria, il tuo commento? È stata una bella partita, secondo me ho potuto fare molto di più, fare i miei errori, giocare fluido, però non mi distrazione per niente perché c'è una partita di domani e poi per la pubblica di strada e poi ci sarà andato. La tua prestazione? Il tuo commento, è stata bene anche stasera. Così così, dovevo fare meglio.